Buongiorno a tutti! Oggi parliamo della divisione con i numeri relativi. Come per la moltiplicazione, prima ancora di eseguire la divisione, devo conoscere la regola dei segni. Per cui, ecco qui la tabella. Immaginiamo che nella prima riga ci siano i segni del secondo termine della divisione. Cioè, del divisore e in questa colonna i segni del dividendo. Così abbiamo anche ripassato i termini di una divisione, che sono dividendo, da dividere vuol dire divisore e quoziente. Allora, non si possono verificare più di queste situazioni. La regola è sempre la stessa. Più diviso più fa più. Più diviso meno fa meno. Ossia, la divisione tra due segni uguali, più e più, da più, meno e meno, da più, mentre la divisione tra due numeri opposti, da meno. Meno diviso più da meno e più diviso meno fa meno. Quindi la regola è sempre quella. Due segni uguali più, due segni diversi meno. Dopodiché, per quanto riguarda i moduli, bisogna dividerli, come già sapete fare, dalle elementari per quanto riguarda i numeri interi e da prima media per quanto riguarda le frazioni. Ma andiamo a fare subito qualche esempio. Partiamo dal semplice. Divisioni tra numeri concordi. Più 18 diviso più 2. Allora, poiché i segni sono entrambi positivi, il segno del risultato sarà più. 18 diviso 2, 9. Più 20 diviso più 4. Per lo stesso motivo, più diviso più fa più. 20 diviso 4, 5. La stessa cosa con il meno. Meno 9 diviso meno 3. Due segni uguali più. 9 diviso 3 fa 3. Ecco quattro divisioni, invece, tra numeri discordi. Meno diviso più fa meno. 28 diviso 7, 4. Più diviso meno fa meno. Meno 9. Più e meno fa meno. Il risultato sarà meno 5. Meno diviso più il meno. Il risultato sarà 3. Ora guardiamo l'esempio 3 e 4. Più 16 diviso meno 5. Il segno è meno. Poiché non riesco a eseguire la divisione, lascerò 16 quinti. Infine, nel quarto esempio, con le frazioni. Meno 7 terzi diviso più 5 sesti dovrò capovolgere. Dovrò fare meno 7 terzi per più 5 sesti. Semplificando il risultato, il segno sarà meno e il risultato sarà 14 quinti. Ed ecco un bellissimo schema riassuntivo che andremo a vedere insieme, lasciando per ora fuori il discorso delle potenze. Allora, i numeri relativi possono avere un segno che può essere più, cioè positivo, meno, negativo, più un valore assoluto o modulo. Per cui, se non voglio considerare il segno, utilizzo il segno di modulo, il simbolo di modulo. Modulo di più 3 è 3, modulo di meno 2 è 2. Siamo passati all'addizione. Abbiamo visto l'addizione tra numeri concordi dello stesso segno e discordi di segno diverso. Ricordandoci nell'addizione che se abbiamo due segni uguali sostitueremo col più, due segni diversi sostitueremo con il meno. La stessa cosa con la sottrazione, tanto che si parla di addizione algebrica, perché una sottrazione può essere trasformata in un'addizione. Per la moltiplicazione, qui è la regola dei segni che è applicata alla moltiplicazione e per il modulo basterà moltiplicare i moduli, questa stessa regola dei segni vale per la divisione. Quindi siamo arrivati a eseguire tutte e quattro le operazioni, non ci resta che esercitarci facendo delle espressioni via via più complicate per poi affrontare l'ultimo discorso che sarà quello delle potenze di numeri che hanno come base un numero relativo. Vi auguro buona giornata e a risentirci a presto.